signori bentornati o benvenuti sul canale io sono Dario del Teldarion e oggi siamo qui riuniti per fare un video diciamo un po così dove non mi sono preparato niente un video dove voglio dire un po di cose un video insieme a un ospite che vedete qui e parleremo proprio di questo oggi allora ragazzi ultima cosa mi sono dimenticato iscrivetevi al canale mi raccomando che è totalmente gratis aiutate a far crescere questo progetto iscrivendovi e poi attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati allora ragazzi come ben sapete ieri sera c'è stato il derby milan inter vince l'inter 1 a 2 con gol di acerbi turam ha segnato acerbi guardate un po come come strano il destino segna turam mi fa vincere anche il fantacalcio però questo questa è un'altra storia come direbbe qualcuno il l'inter ieri sera ha vinto matematicamente lo scudetto e sappiamo benissimo diciamo è stata una serata a storica perché per la prima volta nella storia della serie a uno scudetto viene viene diciamo vinto in un derby stracittadino e l'inter quindi ieri sera ci ha ufficialmente levato dal petto lo scudetto fatto anche la rima ora noi tutti sappiamo benissimo che questo scudetto non ce l'hanno tolto ieri sera ma lo sappiamo sono mesi che ce lo siamo tolti anche un po da soli qualcuno forse si sarà anche accorto che io sul canale e in generale sui social che ho ho fatto un po un restyling soprattutto nel logo ho tolto il cerchio tricolore perché da ieri sera ufficialmente non siamo più campioni italia però vi ricorderete nei mesi passati avevo qui nel video in alto lo scudetto quello scudetto che pian piano diventava sempre più trasparente per poi scomparire totalmente però ieri sera diciamo è arrivata all'ufficialità quella proprio decisiva ripeterò un po di cose però secondo me vanno ripetute perché questa annata va archiviata ma non dimenticata nel senso io veramente mi auguro con tutto il cuore che quest'anno tutti tutti i membri della ssc napoli a mi auguro che abbiano tratto delle lezioni ecco da quest'annata specialmente da una persona in particolare che sapete benissimo chi è dell'aurentis quello che secondo me ha iniziato questo diciamo questa annata disastrosa perché ragazzi noi io sono di un parere il calcio è un gioco di squadra quindi quando si vince vincono tutti quindi quando vince lo scudetto ha vinto dell'aurentis ha vinto chiavelli ha vinto giuntoli ha vinto spalletti hanno vinto i giocatori hanno vinto tutto tutta la ssc napoli da dell'aurentis fino all'ultimo magazziniere quando si perde perdono tutti perde dell'aurentis in primis perde chiavelli perde meluso perde perdono garcia mazzarri calzona perdono tutti i giocatori tutti tutti nessuno escluso quindi io sono di questo parere e la cosa che a me onestamente veramente ha fatto molto male quest'anno cioè ieri sera quando ho visto il fischio finale di milan inter perché ieri la partita me la sono vista quando ho visto il fischio finale dentro di me un po è sceso un po di tristezza ma non perché l'inter ha vinto lo scudetto perché l'inter che vinceva lo scudetto io l'avevo anche pronosticato nel video di giugno la cosa che per me ha dato fastidio e che mi ha fatto male è che noi con questo sul petto non abbiamo fatto niente per rendergli la vita difficile io quest'anno non chiedevo di vincere un'altra volta lo scudetto perché era impossibile impossibile no molto difficile molto difficile sarebbe stato storico e leggendario vincere due di consecutivi cosa che non è mai successa però di base ero consapevole che non avremmo vinto però ero convinto e sotto un certo punto di vista esigevo anche che il napoli salutasse questo scudetto con più dignità e che lo difendesse meglio ecco questo è mancato quest'anno noi questo scudetto non abbiamo mai difeso non abbiamo fatto niente per dare fastidio all'inter e per rendergli la vita un po più difficile sin dal primo giorno da quel maledetto giorno dove adl durante la festa scudetto disse questa squadra puoi allenarla anche tu da lì sono partiti tutti i problemi e io anche in modo ingenuo io purtroppo quelle parole e tutto quello che è arrivato dopo l'ho preso un po sotto gamba e i video sul canale ci sono io durante l'estate ho voluto fare un po tra virgolette il garantista di di laurentis ma non perché io sono un tutto apposto sono un lecchino di di laurentis l'ho fatto perché secondo me della rendis si era meritato il credito che si era appunto guadagnato lo scorso anno un po più di fiducia diamogli tempo credito secondo me alla fine ha fatto scelte giuste l'ho fatto diciamo in buona fede perché ho detto ha apportato lo scudetto e quindi un po di credito glielo voglio dare purtroppo questo credito sin da subito è stato è stato tradito i video sul canale ci sono di quest'estate dove ho detto un sacco di cose che poi si sono rivelate false sbagliate ho fatto una previsione sbagliata non c'è niente da aggiungere e non voglio giustificarmi faccio soltanto i miei più sinceri complimenti e a tutti quelli che durante l'estate hanno ci hanno visto lungo ecco e lo dico in maniera seria non sto non voglio prendere in giro lo dico proprio sinceramente complimenti a tutti quelli che quest'estate ci avevano visto lungo e avevano capito sin da subito l'antifona della stagione io non io credo che nessuno si sarebbe aspettato un disastro del genere però magari che so non va in champions arrivi sesto quinto te la lotti però non ci vai ecco ma credo che nessuno si sarebbe mai aspettato una tragedia del genere e quindi io purtroppo l'estate mi sono fatto un po prendere ecco da da questa cosa che aveva vinto lo scudetto e quindi un po di credito un po di credito se lo meritava da questo momento in poi non sarà più così e quindi della rentis dovrà coi fatti e coi fatti seriamente recuperare questo credito e i fatti quali sarebbero sono cose un po che abbiamo già detto perché alla fine sono quelle le cose dove della rentis deve cambiare deve deve migliorare e quindi le ripeterò un po ragazzi io ieri sera dopo la ritrova dello scudetto sono andato così per curiosità a guardarmi un po l'organigramma dell'inter e poi dopo visto anche quelli del milan e della juve adesso vi dico una cosa no allora sappiamo tutti che il presidente dell'inter è zang ok sappiamo tutti che zanetti è il vicepresidente sappiamo che esiste un consiglio di amministrazione composto precisamente da dieci persone incluso zang sappiamo che esiste un collegio sindacale esiste un amministratore delegato per la corporazione e per lo sport quello che lo sport tra parentesi è marotta sappiamo che esiste un direttore sportivo che si chiama ausilio sappiamo che esistono dei vari chief officer c'è il chef revenue officer il chef communications officer e così via comunque alla fine della fiera l'organigramma dell'inter è composto praticamente da 22 persone e ognuna di queste 22 persone ha un ruolo preciso organigramma del milan l'organigramma del milan è composto da scaroni che il chairman quindi diciamo il proprietario il presidente del milan giorgio furlani quello che esecutivo non so spiegare il ruolo in sé però diciamo è quello che prende le decisioni è un po il marotta del milan mettiamolo così tra virgolette franco baresi un vicepresidente onorario tra parentesi nell'inter nel milan dentro la dirigenza ci sono giocatori che diciamo persone che in passato sono state bandiere o comunque hanno vissuto dal dall'interno quella società moncada direttore tecnico stefano cocirio chef financial officer roberto masi tania moreno michael pier donato vercellone maurizio bonomi agata frigerio lorenzo libutti marco lomazzi daniele massaro peter morgan francesca muttini valero rocchetti aldo savi lamberto siega vincenzo vergine alessandro bernacchi angela zucca tutti questi sono membri della dirigenza del milan per un totale di 22 persone organigramma juve ferrero che il proprietario scanavino che il direttore esecutivo laura cappiello amministratore indipendente fioranna vittoria né che c'è un cognome un po particolare l'organigramma della juve è un po più ristretto però la il minimo comune denominatore ecco tra tra queste organigramma qual è è che ci sono tante persone che fanno cose diverse ognuno fa un ruolo specifico qual è l'organigramma del napoli dell'orentis padre dell'orentis figlio poi abbiamo jacqueline la moglie di dell'orentis e poi chiavelli che è quello diciamo che l'ha detto diciamo alla stipulazione dei contratti poi basta vabbè ci sarebbero lombardo però quella è la sezione stampa diciamo proprio a livello di dirigenza questi sono i membri della dirigenza ne abbiamo 4 5 sicuramente non arriviamo a 10 e l'altra cosa importante da dire sulla dirigenza del napoli è che abbiamo membri della dirigenza chi di calcio ne capiscono zero e non è un insulto ma una constatazione la dirigenza del napoli è una dirigenza familiare composta da gente che prevalentemente viene dal cinema non abbiamo personalità che magari hanno fatto la storia del calcio che non è che c'hai un mertens un bruscolotti un raduna così per dire per fare qualche nome dentro la dirigenza è tutta gente che nel calcio c'è relativamente da poco ok e meno io penso che una dirigenza del genere per essere efficiente debba essere composta anche da gente che di calcio ne capisce poi abbiamo un de laurentis che oltre a fare il presidente proprietario fa il direttore sportivo fa l'ha detto stampa fa l'allenatore in seconda il collaboratore tecnico va dentro gli spogliatori voi avete mai visto uno scaroni o uno zang che va dentro lo spogliatoio sbraita con la squadra io no ecco ragazzi quindi qui arriviamo al primo tema tanto discorso quest'anno ma che è fondamentale parlarne noi abbiamo una dirigenza che non è non è efficiente costruita male snella povera di personalità che nel calcio ci sanno fare un'altra cosa che volevo dire no se voi andate a vederlo cari gramma dei di nuvi milan inter poi non troverete una pagina intera dedicata alla biografia del presidente con tanto di gigantografia come ad esempio succede nel napoli se voi andate sulla pagina del napoli c'è una sezione dedicata esclusivamente a il presidente ignorando tutti gli altri ecco quindi questo è anche un altro diciamo segno del peculiare del carattere di de laurentis abbiamo una dirigenza povera numericamente ma povera anche di esperienza nel calcio e abbiamo al suo interno persone che pensano di sapere tanto di calcio ma in realtà non è che dicono non è che non capiscono zero però di certo sono meno esperte di gente che invece nel calcio ci sta da anni parlo a livello di direttori tecnici direttori sportivi tu l'anno scorso perché vinto hai vinto perché avevi un de laurentis che faceva il suo avevi un direttore sportivo come giuntoli che aveva un suo ruolo preciso avevo avevo un allenatore bravo che lavorava e che era entrato in sintonia con la squadra che era spalletti ognuno aveva un ruolo preciso e c'erano dei ruoli coperti no cioè nel napoli ragazzi manca un amministratore delegato manca un direttore generale manca un direttore sportivo mancano dei ruoli fondamentali ruoli che quest'anno si è deciso di non colmare perché de laurentis doveva dimostrare al mondo intero che lo scudetto lo aveva portato lui e non giuntoli e spalletti e la squadra quella è stata la miccia poi da lì tutto il resto perché ragazzi noi possiamo prendercela quanto volete coi calciatori e io in primis l'ho fatto però alla base dobbiamo sempre ricordarci una cosa questi giocatori sono stati privati di un allenatore come spalletti che appunto era entrato in sintonia con loro proprio si vedeva che avevano un rapporto proprio padre figlio ok più o meno gli hai tolto spalletti gli hai dato un allenatore come garcia che sin dal primo giorno non è mai entrato in sintonia con i calciatori anzi con alcuni è entrato proprio in contrasto e su questo ciro troise ha detto più volte questa cosa ciro troise a mio avviso è uno dei pochi giornalisti seri che abbiamo a napoli ciro troise ci ha più volte detto che il retiro estivo è stato uno dei peggiori della storia ci ha detto più volte che dei calciatori specialmente in primis anghissà che ci diceva che appunto l'allenatore non era mai entrato in sintonia con la squadra quindi tu gli hai tolto spalletti gli hai dato uno che non è mai entrato in sintonia lo esoneri metti poi un allenatore come mazzarri che magari dal punto di vista umano li avrà pure presi però tatticamente parlando la squadra l'ha uccisa definitivamente ragazzi io me le ricordo le partite di mazzarri io mi ricordo quando kvara doveva venire al di qua della della linea di centrocampo per avere un pallone se non io non gli arrivava mezzo io me le ricordo le partite dove facevamo zero gol mazzarri magari umanamente parlando avrà riallacciato i rapporti ma tatticamente parlando ha ucciso definitivamente questa squadra e poi è arrivato calzona ma calzona purtroppo è arrivato quando quando ormai il danno era stato fatto ed era tutto irrecuperabile quindi quando noi ce la prendiamo coi calciatori ricordiamoci sempre che loro sono comunque delle vittime del disastro fatto quest'anno è tutta una catena ragazzi immaginiamo una piramide alla punta c'è la diligenza nel livello intermedio abbiamo l'area diciamo sportiva quindi direttore sportivo allenatore osservatori scouting e poi alla base ci abbiamo i calciatori se sia la sia la punta non funziona diciamo il lavoro il lavoro non è efficiente a cascata poi questo questa male efficienza si trasmette anche i livelli sottostanti è tutto un collegato ok quindi si è partito dalla punta e si è poi arrivato alla base e alla fine arriviamo a oggi 23 aprile 2024 precisamente sono passati la bellezza di 355 giorni da quel 4 maggio e tu sei al momento ottavo con ben 27 punti anzi 37 punti di distacco dall'inter che ha vinto meritatamente questo campionato ragazzi 37 punti uno degli scudetti peggio difesi della storia lo dicono i dati rischiamo di diventare il napoli scudettato peggiore della storia appunto del napoli perché il primo napoli scudettato vi perse lo scudetto all'ultima giornata contro il milan in quel caso lo scudetto era stato ampiamente difeso lo è perso all'ultima giornata il secondo napoli scudettato io non l'ho visto però da quel che ho letto e sentito in giro diciamo che più o meno stiamo lì con quello di oggi cioè quel napoli fino ottavo poi non so resta a mente le dinamiche però a livello di classifica stiamo lì questo napoli rischia di fare ancora peggio perché tu oggi sei ottavo la fiorentina si recupera la partita ti scavalca quindi saresti nono teoricamente e mancano cinque partite quindi tu quest'anno puoi veramente battere qualsiasi record negativo e ripeto io ma penso un po tutti quanti non chiedevamo di vincere ancora chiedevamo soltanto una difesa con onore dello scudetto io avrei voluto magari far vincere lo scudetto all'inter con un po più di fatica avrebbero vinto lo stesso perché erano oggettivamente più forti ma non con questa facilità ecco questo dico gli abbiamo steso il tappeto rosso non abbiamo mai opposto resistenza io comunque alla fine mi devo ritenere fortunatissimo ragazzi perché comunque io faccio parte di quella generazione che comunque ha iniziato a vedere il napoli con dell'aurentis ma dalla promozione in serie a io ho iniziato a tifare nel 2007 in maniera diciamo seria tra virgolette seria perché all'epoca avevo nove anni comunque dal 2007 2008 ecco quella è stata la mia prima stagione da tifoso del napoli quindi io mi sono visto solo il bello perché alla fine ragazzi cioè guardando in generale i vent'anni di dell'aurentis cose belle e positive sono state fatte sono state fatte anche delle cazzate clamorose come ad esempio quest'anno però nel computo generale io mi ritengo fortunatissimo perché comunque ho visto la champions league ho visto l'europa league ho visto dei trofei ho visto altri che ci sono stati scippati clamorosamente però ho visto tante cose positive e sono stato anche fortunato perché col canale ho potuto diciamo su questo canale ho potuto raccontare uno scudetto spero magari ecco di raccontarne un altro ma non so quando succederà spero che non dobbiamo aspettare altri 33 anni magari mettiamoci un po di meno è che dite io per il momento dico dico arrivederci perché dire addio l'addio l'abbiamo sfatato con questo cioè prima o poi arrivato e dobbiamo soltanto ecco a dire arrivederci la mia speranza è che dell'aurentis abbia capito gli errori li abbia capiti proprio nel profondo se li ha capiti bene se non li ha capiti ho paura che queste stagioni diventeranno la regola quindi ragazzi detto questo io vi saluto sono un po triste ecco un po triste oggi il giorno dopo udinese napoli l'anno scorso ero qui ho pianto con un bambino e non me ne vergogno ho pianto perché avevo realizzato che avevamo vinto lo scudetto dopo quasi un anno sono qui pieno di amarezza di tristezza e anche un po di rabbia ecco perché la rabbia di base c'è sempre perché questa stagione è nata male ed è finita peggio ed è nata male non perché tu magari hai fatto le cose con una logica e ti è andata male semplicemente no è nata male perché tu volontariamente con la presunzione l'hai fatta l'hai fatta iniziare male ecco quindi questo è quello che mi dispiace parecchio comunque lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi perché così aiutate il canale e lo fate crescere ecco attivate poi anche la campanella detto questo ragazzi adesso prendo questa maglietta una maglietta che purtroppo verrà ricordata male questo non cancella comunque il fatto che nell'anno scorso abbiamo fatto quello che abbiamo fatto quello che è successo l'anno scorso non verrà mai dimenticato non verrà mai sporcato quello che è stato fatto l'anno scorso rimarrà nella storia negli almanacchi rimarrà purtroppo rimarrà anche quello che si è fatto quest'anno ecco io purtroppo quando vedrò questa maglia cioè quando vedrò lo scudetto non solo non penserò soltanto all'anno scorso ma penserò anche a questo perché non è avuto neanche il tempo no di di rielaborare cioè un anno è passato un anno nell'anno scorso stavamo qui a piangere di gioia perché raspatore aveva fatto il gol vittorio alla juve a torino un anno esatto dopo quella quel gol noi siamo qui a pensare tutt'altro ecco quindi purtroppo questa maglia ti porterà dietro un'annata tragica adesso la rifungo nel cassetto e quindi signori questo è quanto spero veramente di vedere un altro di scudetto sempre comunque forza napoli perché quello non mancherà mai noi ci vediamo alla prossima